Da Novara al Milan, un viaggio che lo porta alla Juventus. Alessandro Citi, difensore della Juve Primavera, nelle 5 curiosità di Juventus News 24. La prima svolta. Citi nasce nel 2003 a Novara ed è proprio nel settore giovanile del club piemontese che inizia il suo percorso di crescita. Percorso che lo porta, nel 2013, a trasferirsi al Milan. Rosso-nero per 8 anni. Dura ben 8 stagioni il suo matrimonio con il Milan. Cominciato dagli esordienti e finito in under 18. In mezzo una lunga trafila in cui assume, stagione dopo stagione, le sembianze di un vero e proprio leader difensivo. Difensore sì, ma i gol, un centrale fisico che ama sganciarsi in avanti e colpire a rete. Lo testimoniano i gol messi a segno durante la sua carriera. Ben 6, il suo record, nella stagione 2016-2017 con il Milan under 14. Curiosità nella curiosità? L'anno successivo, in under 15, segna tre reti su calcio di rigore, dimostrando un'altra skill nel suo curriculum. Segno del destino. La Juventus la incrocia nel suo cammino già in under 15, presentandosi ai quarti di finale scudetto con il suo Milan. A vincere sono proprio i bianconeri, che al termine della stagione 2017-2018 si laureano campioni. Finalmente Juventus. L'estate del 2021 segna la fine del suo rapporto in rosso-nero, con l'ultima stagione da capitano con il Milan under 18. E la Juve Primavera a scommettere sul suo potenziale, puntando su di lui per rinforzare la propria linea difensiva. Alessandro Citi, potenza fisica, abilità aeree e vizietto del gol. Diteci con un commento cosa ne pensate del difensore della Juve Primavera e iscrivetevi al canale.